Ha fatto molto parlare una dichiarazione di tua figlia Chiara che ha parlato appunto di un amore senza etichette. Sì, sì, ma infatti devo dire che poi mi ha molto colpito anche il fatto che ci sia stato così tanto clamore, no? Cioè lei in realtà ha semplicemente detto di essere una ragazza aperta, di essere una ragazza libera, di potersi innamorare sia di una ragazza sia di un ragazzo. E io ho anche apprezzato molto questa sincerità, insomma, i nostri ragazzi sono cresciuti in un ambiente in cui sono liberi di essere quello che vogliono. E credo che ogni genitore, ma insomma io penso, come dire, di non dire niente di nuovo, quello che noi speriamo per i nostri figli è semplicemente che siano felici. E quindi poi il modo e le condizioni, le scelte che faranno nella loro vita sono solo ed esclusivamente loro. Per cui io l'unica cosa che mi auguro è che siano veramente tutti e quattro ragazzi felici. Questa è la cosa più importante, davvero.